Com'è? Vedete il gioco non è così normale Su League è normalissimo in realtà La? Temperatura? Va bene Su League of Legends sai quante volte Mi è successo di trovare anche dei miei amici Mentre giocavo a League of Legends Nel team avversario o in team Molto spesso actually Weeeee 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 ma che fine hanno fatto le bet e non ci sono sempre ok tanto feriamo l'ossessione la constituzione sì, perfetto blocchiamogli il pall c'è tanto la finestra bloccata ha sicuramente DS non ha DS o l'ho sbagliato avrebbe usato l'M1 per save the best 3 che mapa di merda oh è qua diamo l'HIT di M1 anche solo per save the best ok ancora in regressione basta devo reclutare la mia ciurma perché non mi hai droppato il pallet amico ho detto ci passo dai ok magari mi droppa il pallet ma resto prendermi l'HIT e niente e niente non dare di M1 ma Vecna sta piacendo tanto onestamente poi il fatto che gli scheletri non sono considerati per gli per i vari perk dell'ossessione tra gioca col tuo cibo e save the best è veramente tanta roba abbiamo due appesi ok quello ha fatto il save vorrei andare per per il Soma qua perfetto ecco qua qui siamo presi il second stage così abbiamo preso un bel po' di volume abbiamo preso save the best abbiamo preso second stage su di lui l'HIT sull'altro va bene anche se fanno il save gli diamo un po' di chance fuori il fatto che comunque gli scheletri non ti tolgono save the best o gioco col tuo cibo è veramente rotto non so come è possibile che nessuno l'abbia scoperto finora non voglio andare per lui perché l'ossessiona anche se ha dato nuke vorrei colpirlo senza sprecare stack di soldi su un serro sarebbe stato meglio ucciderlo ecco ecco qua tanto anche lui ha dato poco preferisco staccarmi di più conserva, tanto ormai il game è finto no non mi serve però cioè se prendevo lui sarebbe comunque finto il game abbastanza fast quando e se farò solo il 5% verrà mutato per tanto a te ti schiaccio tutto e ti chiamo Squatina ciao Squatina buonasera Squatina be my eyes c'è Pino da far volare volare cagare nel marrone dipinto di merda killer più forte al momento Nurs no non so ascoltare Asics Stefano Asics me ma fortissimo sempre tutto quello che dice è sbagliato sempre state sempre lo salasi raga ma che noio stanno rattando fortissimo vedi signor sognorante io la lascio vivere le lascio un po' di tempo però lei non è che me la deve far sprecare così tanto Wesker in seguito al predatore a braccio lugubre vabbè non abbiamo la botola ciò sraga tutto bene grazie c'è Troppo difficile usare da play Lo so Obeso camper e tunneler Beh Next time Allora Non ti lascio andare So you buy a game for doing that It's the third time we met Bro Did you see how we are playing Playing for win Killing serve What a strange thing The killer have to do Oh my god He killed me So basically playing comp It's not my fault If you can Loop For more than 20 sec Zero abilità nel looping popo Ma se cadi Dopo letteralmente Zero secondi di chase Ma almeno non parlare Please XD If you camp and tunnel So If I If I have Two people On the hook Cause You can You can Loop I should just Leave the hooks Tell me What am I Supposed to do Not playing the game Just sitting And waiting For you To make the save Literally get Both of the hook By camping And he tried to trade Come on Twitch If you want To talk I'm not Staying There More Than Ne 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 Chess Sorry Yep Come You have a Twitch Oh my god Oh my god Oh my god You have a Twitch If you have zero views Let me check Continua adesso Per curiosità In vita Boring game playing Come Vabbè Tu sei Chiaramente Un pagliaccio Di cui Non Ha Senso Nemmeno Parlare Ma che Parlare Bannato Staresti Bene Qua con noi Vieni Su Su Così Almeno Capisci Quanto Sei fallito Basta Non ho più voglia Se vogliono venire Vengono Io avrei già mandato In quel paese Non c'è tempo No ma Morduk Tu non hai capito Io mi diverto Non hai capito Io mi diverto Perché in realtà A me non me ne frega Un cazzo Però vedi È proprio questo Il fatto È bello vedere Quanto la gente Sala Per un videogioco E io sto qua Che non me ne frega Un cazzo Perché uno ho vinto Quindi me ne frega Che meno Due Ti pare che me ne frega Il cazzo Ma sì Hai ragione Però un po' Li provochi Ma io Hanno iniziato loro Eh Lorenzo Vai a vedere Hanno iniziato loro Hanno iniziato loro E io ho fatto niente Obeso Camper e Tunnel Ma cazzo Ma sì Si va avanti Vediamo quanto Tirano fuori Capito Perché è bello Sai cosa Vedere anche Soprattutto Quanto sono infognati Per le stronzate Che dicono anche Perché È palese Tutto il mondo Lo sa I surf Devono fare i geni Il killer Deve uccidere i surf No Eh però Se è un ciccione obeso A parte dei insulti Alla persona Sono anche chi se ne frega Chiaramente follower Di qualcuno Che tutti qua conoscono Però chi se ne frega Di quello Sono Ormai c'ho le ossa dure Su sta cagata Per me è divertente Perché È bello pensare Sai cosa Perché chi insulta Di solito Soprattutto nei giochi online Sono i primi Che si lamentano E che se la prendono Ed è questo La divertente Perché Loro ti insultano Pensando di fartela prendere Però a me non me frega un cazzo E li ridò indietro E loro ci rimangono male Perché loro se la prendono E a me non me frega un cazzo Ci rido sopra Ciao